buongiorno a tutti proseguiamo con le gare di sci perché come ben sapete sono in arretrato di un mesetto con il super gigante maschile di kitzbühel del 27 gennaio 2019 il primo a scendere è first three vediamo quale sarà il suo tempo 1 13 e 07 gara abbastanza corta e anche veloce vediamo se qualcuno riuscirà a stargli davanti o magari ha fatto un tempone lo sapremo subito perché con il pettorale 2 scende wolder ma è il primo a non finire la gara perché salta una porta dopo la discesa dei primi dieci atleti il buon first zitto zitto cacchio cacchio mantiene il primo posto e ha già tirato un sospiro di sollievo al termine della discesa di krich mayer avanti negli intermedi ma ha finito dietro di 15 centesimi alla fine quindi la classifica dopo i primi dieci atleti vede first al primo posto krich mayer al secondo a 15 centesimi mayer al terzo a 18 seierstedt al quarto a 46 teo al quinto a 51 camiezel al sesto a 62 tumbler a al settimo a 69 ganong a 75 e cook a 1 e 53 come detto è uscito wolder con il pettorale 15 scende il nostro paris vediamo se riuscirà a togliere a first la poltroncina del primo perché lì bello tranquillo da ben 14 concorrenti quindi ha fatto un bel garone per ora appunto non c'è riuscito nessuno e purtroppo non ci riesce neanche il nostro paris che è secondo a 10 centesimi da first gara ottima però purtroppo con il pettorale 17 scende feutz ma sbaglia dopo il terzo intermedio e salta una porta peccato perché stava facendo una gara da primi cinque con pettorale 19 scende il nostro inner offer vediamo cosa combina qualche errore di troppo ma comunque ottavo a solo 46 centesimi da first peccato perché senza quegli errori magari poteva addirittura andare a rompere le scatole al suo compagno di squadra paris con il pettorale 20 scende claret e per soli 200 centesimi si mette davanti al nostro paris ma è dietro di 8 centesimi a first quindi la classifica dopo 20 sciatori vede sempre first felice come una pasqua ormai che odora la vittoria perché ne sono scesi 20 è difficile che dal ventesimo al trentesimo ci sia qualcuno che faccia al garone però non si sa mai terzo posto secondo posto claret terzo posto paris quarto crischmeier quinto maier sesto kilde che si è inserito settimo roger che si è inserito ottavo pinturo che si è inserito nono der offer che scende di una posizione perché pinturo si è inserito e in erofer e nono a pari punti con seieste o con lo stesso tempo di seieste con il pettorale 29 scende il nostro marsaglia ma purtroppo è solo sedicesimo ma però attenzione con solo 72 centesimi di ritardo vediamo com'è cambiata la classifica e se è cambiata dopo la discesa dei primi 30 atleti first per il momento resta sempre al comando allora feste sempre primo claret sempre secondo paris è sempre al terzo posto crischmeier è sempre al quarto maier è sempre al quinto kilde ha sempre al sesto roger è sempre al settimo pinturo è sempre all'ottavo e in erofer e i 6 st sono sempre a pari punti al nono quindi la classifica finale poi sarà ancora la stessa e vedrà sempre first al primo posto e via via tutti gli altri io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video che farò naturalmente sullo sci spero di non avervi annoiato sono stato rapido in modo che così potete avere tutto la questione senza annoiarvi e ci vediamo naturalmente ai prossimi video ciao